Il progetto REMOT è un progetto in collaborazione tra il CRS4 e il Brozzo, volto a gettare le basi per creare un ambulatorio di cardiologia pediatrica in tutta la Sardegna virtuale. Il progetto REMOT sarà possibile, per uno specialista situato nel centro a Cagliari, visualizzare gli esami di un paziente in un presidio ospedaliero remoto e effettuare un consulto e poter dare un parere su immagini acquisite lontane da dove si trova il centro. Questo primo prototipo già consente di visualizzare in tempo reale gli esami che vengono a Cagliari, gli esami che vengono effettuati a 100 km di distanza. Il nostro sistema utilizza tecnologie aperte e con un costo relativamente esiguo permette di collegare questi due centri in tempo reale per l'effettuazione dell'esame.